Ok, numero 17 Giovanni, chiudi pure che poi regoliamo il sedire di cintura, beh in realtà il sedire, sto guardando, potrebbe essere la tua posizione ottimale, sì sì sì, allora io direi tini frenato e tira il paddle di destra, le marce le vedi lì al centro, mani nuovo un quarto, andiamo, non preoccuparti degli specchi che guardo sempre io per te, adesso la pitlene è libera, seconda, ti dirò anche quando ti metti sul dritto se arriva qualcuno, se è libero, tutto a sinistra, prendiamo i 60 all'ora e mettiamo in terza, allora ho già visto una macchina in rettilineo, quindi stiamo su questa corsia affinché non ci passa e vediamo se se ne ha altre, libero vai pure, in accelerazione ci spostiamo tutto a sinistra, marcia, frena, seconda, guarda la prima curva a destra, sterze, cala il freno, punta l'acceleratore, guarda l'uscita, pieno gas e allarga, terza, quarta, tutto a sinistra, quinta, non frenare, destra, cresci col gas e stai a destra, metti la sesta così è meno sensibile all'acceleratore e aumenta la spinta, lascia scorrere, richiama la destra, frena, più forte, più forte, spingi le ruote dritte per calare mentre sterzi, bravo, punta il gas, allarga, stai largo, stai in quarta, gira, accelera e stai a destra, pieno gas e allarga a sinistra, frena, terza, sterze, cade il freno, pieno gas e allarga, marcia, stai a centropista, stai pieno gas sul sinistra, allarga a destra, marcia, frena, terza, frena forte, guarda dove è la curva, bravo, sterza, punta l'acceleratore, stai a destra, tieni accelerato costante, prossimo, guarda già l'uscita, pieno gas, marcia, marcia, per sinistra, marcia, frena, deciso, ruote dritte, terza, accompagnala a destra con un po' di freno, punta il gas, stai a destra, pieno gas, allarga a sinistra, tutto a sinistra, quarta, quinta, sesta, sesta, frena, forte, seconda, sguardo all'interno, punta il gas, vai, terza, quarta, quarta, feda di metodo over, passo interno, grazie, termine a destra, pieno gas, marcia, marcia, frena, forte, seconda, guarda interno, apri, marcia, frena, chiudi, punta il gas, frena, terza, dentro, pieno gas, marcia, marcia, sinistra, marcia, allarga, frena, forte, terza, dentro, punta il gas, stai a destra, destra ancora, chiudi, pieno gas, allarga, quarta, quinta, sesta, frena, terza, stai sul freno, gira, via il freno, punta il gas, stai interno, aumentalo, pieno gas, quarta, lascia scorrere, quinta, tutto a sinistra, sesta, sesta, frena, più forte, perché sei un filo lungo, così, seconda, perfetta, vai, allarga, marcia, non mollare il gas, non mollare, vai in pieno gas, che ti esce con lo sterzo, questa domina, per un po' di margine, si deve essere molto bravo a sfruttarla, quindi basta non scotere lo sterzo, frena, forte, 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 sei lungo, ottimo, l'hai recuperata, chiudi, chiudi, pieno gas, frena, largo, dentro, 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 apri, marcia, sinistra, marcia, largo, frena, ok, frena forte, adesso facciamo la scari, stiamo già in quarta, perché in uscita iniziamo a raffreddare i freni, ok, quarta, stiamo ai 130 all'ora, mi senti? Si, stai ai 130 a destra, facciamo prendere i freni, divertito? Moltissimo, bravo che hai guidato la grande, grazie, molto, molto bene, molto divertente, sei già stato in pista, no, prima volta in pista, con questa macchina, si, Monza la conoscevi, ha una lepre, occhio che forse ritaglia la strada di nuovo, attenzione che c'è una lepre, prima della parabolica, sta attraversando la pista, adesso è a destra, Monza la conosco per i videogiochi, sono venuto a vedere un gran premio, però non ci avevi mai girato, non ci ho mai girato, bravo, mi hai guidato veramente bene, allora, che spettacolo però questa macchina, è molto reattiva, ma molto facile, fluida, la senti? Poi tu sei stato bravo a darle gli input giusti e sfruttarla al meglio, perché non può diventare anche un po' più nervosa, tu l'hai sfruttata, eri sulla strada giusta per continuare a crescere, andare a sfruttare quel tempo frio. Ci fermiamo, semplicemente frenando dietro la 8-8, poi da fermo passiamo in neutro. Ragazzi, occhio che c'è una lepre prima della parabolica. Tutte e due le palette verso di te, i contemporanei, e siamo in neutro. Ciao, grazie a te, buona giornata. Grazie.